Insieme a tutti i parlamentari che vogliono dire no a questa riforma costituzionale, oggi abbiamo costituito il comitato dei senatori. Parlamentari di vari schieramenti politici, a partire dal centro-destra, ex del Movimento 5 Stelle, ci sono parlamentari di maggioranza. Tutte persone, tutti i cittadini italiani che dopo aver visto questo percorso di riforme costituzionali, voluto da Renzi, dalla Boschi, da Verdini, da Alfano, hanno deciso che nel momento in cui si andrà a chiedere ai cittadini italiani che cosa ne pensano, noi proporremo e chiederemo ai cittadini italiani di dire no. Per due motivi, un motivo strettamente istituzionale, tecnico, di contenuti, dove diciamo che questa è una riforma costituzionale che non serve a niente, pasticciata, che toglie poteri alle regioni, che non fa risparmiare nessuno. E poi per un motivo politico, il motivo politico ormai lo sapete benissimo tutti. Renzi ha detto chiaramente che se perderà questo referendum, deciderà e darà le dimissioni e quindi andrà a casa. Noi a questo punto vogliamo accontentarlo, vogliamo far sì che questo signore torni a lavorare, se ha mai lavorato in vita sua, vogliamo permettere agli italiani di poter avere un governo fatto da persone normali, per persone normali, che porti avanti quello che stanno chiedendo tutti i nostri concittadini. E di conseguenza invitiamo tutti a votare no e invitiamo tutti a schierarsi con noi, a darci una mano il più possibile per convincere più persone possibili ad andare a votare e votare no.